C'è però invece chi ti ha criticato dicendo appunto che è sbagliato lavare i panni sporchi. Sì, l'ho letto e condivido. Hanno ragione, avrei preferito fare diversamente, però il primo a lavare i panni sporchi, a stenderli, è stato Francesco con quell'intervista al Corriere. E chi invece ti dice, ah ma Ilari sapevi che c'era una relazione aperta, che cosa rispondi? Mi viene da ridere perché ho letto anche questo, ed è un po' la cosa che mi ha ferito anche. Parlavano di relazione aperta, a parte che l'ho detto anche appunto su un'intervista, forza aperta solamente da una parte, però poi mi sono chiesta, ma se veramente appunto pensavano che fosse una relazione aperta, allora poteva accettare il caffè o il dubbio del tradimento? Poteva accettarlo? Se era aperta. Se era aperta. Non era aperta. Evidentemente no.